buongiorno a tutti oggi vi volevo parlare di qualcosa di molto effimero e anche di poco facilmente rintracciabile nella nostra società ma che in realtà circonda ogni giorno le nostre vite e presenta un grosso valore nelle nostre società sono gli asset intangibili o capitale intangibile queste si distinguono dagli asset tangibili che sono in pratica quelli fisici e finanziari in maniera diciamo estremamente rilevante in quanto le risorse intangibili presentano delle caratteristiche di non visibilità o non non contabilizzazione all'interno di quello che può essere il patrimonio delle società ma anche delle persone le risorse intangibili in realtà hanno possono creare un estremo vantaggio competitivo ma non soltanto per il singolo individuo ma anche per tutte le realtà che 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 le utilizzano che ne capitalizzano che cercano di creare valore dallo stesso il capitale intangibile è formato da diversi tipi di elementi che può essere il capitale informativo quindi la capacità di attrezzarsi e utilizzare tecnologie il capitale intellettuale le conoscenze le competenze le esperienze il capitale dei valori quindi l'organizzazione il coinvolgimento elementi di fidelizzazione capitale strategico organizzativo relazionale cioè la capacità di creare delle reti delle alleanze strategiche commerciali capitale di mercato brevetti reputazioni ma soprattutto dati e questi dati si diciamo collegano strettamente al nostro ragionamento anche connesso quello che può essere chiamato il capitale etico cioè la responsabilità etica e sociale di una persona all'interno di una persona o di un'organizzazione all'interno di una società bene negli attuali scenari competitivi gli asset intangibili o il capitale intangibile è molto molto importante è molto strategico e è talmente tanto strategico che la commissione europea si è posta numerose domande ultimamente nel capire come identificarlo come rintracciarlo di come capire come questo valore così effimero così poco gestibile stia creando un divare molto forte fra pezzi della nostra società e il valore del capitale intangibile è sempre stato molto discusso sia a livello economico che a livello sociale cioè che valore diamo a qualche cosa di materiale che valore diamo alla cultura che valore diamo al all'innovazione al capitale di mercato che valore diamo delle piattaforme noi sappiamo benissimo che le piattaforme oppure il software in generale non può essere contabilizzato ma quello che si può contabilizzare per esempio l'acquisto del server che inseriamo nella nostra azienda ma a questo punto la domanda è e i dati quanto valgono i dati quanto vale quella piattaforma che giustisce quell'informazione sono domande fondamentali che fino a poco fa non neanche considerate né dal legislatore né da diciamo da noi dalle persone che diciamo ogni giorno ci circondano e soprattutto questi dati questa informazione questo intangibile a che appartiene ecco il punto sostanziale è la proprietà di questo dato di questo intangibile di questo capitale relazionale non è chiara quello che è chiaro è che inizia a diventare un problema o meglio inizia a diventare un qualcosa che inizierà a mettere sempre più in relazione i cittadini con dei grossi colossi del digitale che in realtà di questi capitali intangibili capitalizzano pensiamo ad esempio quello che è successo ad apple apple è stata costretta a consegnare ai genitori di un ragazzo purtroppo deceduto foto e video che del suo account ai cloud questa è una sentenza storica e dobbiamo capire che apple si era assolutamente posta contro questa questa richiesta in quanto riteneva di dover tutelare diritti di terzi alla privacy che erano venuti in contatto con il figlio e quindi aveva negato il consenso all'accesso da parte dei genitori dei ricordi del capitale intangibile del figlio morto e questa cosa in realtà è stata confutata dal tribunale di minano che l'ha ritenuta illegittima e anzi proprio appellandosi al codice della privacy diciamo che contiene un paragrafo sulla tutela post mortem ha detto che i genitori hanno il diritto di accedere a questi dati in quanto meritevoli di protezione e quindi i diritti sul dato del defunto per ragioni familiari possono entrare in possesso di dei genitori questa cosa è fondamentale non tanto per una questione di accesso ma una questione di rappresentazione di quello che queste piattaforme stanno aggregando e sulle quali stanno capitalizzando il loro brand e il loro valore questo spiega le forti divergenze che ci sono ad oggi su una valutazione di una società IT rispetto a quello che è il loro turnover e il fatturato ma invece rispetto alla capitalizzazione di mercato queste aziende ad oggi stanno accumulando intangibili che sebbene noi non siamo ancora in grado di capire al cento per cento ne stanno creando un loro forte dominio sul mercato la domanda pertanto rimane questa come noi cittadini e come noi anche aziende dobbiamo tutelarci rispetto al capitale intangibile e quali saranno i prossimi passi al fine di riconoscerlo all'interno di quello che può essere il prodotto interno all'ordo di una società queste sono domande a cui stiamo cercando di rispondere anche con un progetto europeo fatto dalla commissione europea e dal open trust fabric un gruppo di coordinamento che io coordino su nel capire se effettivamente questi intangibili possono dare insieme ai contratti una visione di quello che è il mondo delle relazioni e del valore nel ventunesimo secolo ciao a tutti